Puglia promossa sulla chiusura del ciclo di tutela delle acque. I depuratori che scaricano nel sottosuolo gli agglomerati urbani sottoposti a procedura di infrazione sono sempre di meno. È un bilancio positivo quello emerso dalla conferenza stampa nella quale Goletta Verde ha illustrato i dati sullo stato di salute dei 185 depuratori pugliesi e sul monitoraggio delle fuci fluviali e degli scarichi in battigia svolto da Arpa Puglia e Guardia Costiera. Entrando nel dettaglio sono 185 gli impianti di depurazione in esercizio a servizio degli agglomerati pugliesi. Di questi solo quelle di Lesina Marina e Manduria Vecchio continuano a scaricare nel sottosuolo. Dal monitoraggio effettuato da Arpa Puglia lo scorso anno emerge che sono 34 gli impianti di depurazione che nel 2019 hanno presentato una non conformità alla direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane. Di questi 5 erano interessati dal lavoro in corso che hanno reso plausibile un decremento dell'efficienza depurativa. Su 5 dei restanti 29 sono stati programmati interventi di adeguamento potenziamento e gli stessi risultano in corso di progettazione mentre per i restanti 22 tra cui quelli di Piceglia e Molfetta si procederà con la manutenzione straordinaria in attesa di definire la copertura finanziaria per gli interventi di adeguamento o potenziamento. Per migliorare la qualità delle acque negli ultimi anni la Regione Puglia ha messo in campo numerose iniziative finalizzate a incentivare il riuso delle acque reflue in agricoltura finanziando 32 interventi tra i quali anche quelli sui depuratori di Barletta, Trani, Corato, Molfetta e Margherita di Savoia. Nel primo semestre 2020 Arpa Puglia e Guardia Costiera hanno monitorato attraverso campionamenti 10 siti lungo l'intera fascia marino costiera pugliese scelti sulla base delle potenziali criticità ambientali. In particolare 5 dei 10 siti si riferiscono ad aree interessate dallo scarico in batticia di reflui urbani depurati e sono i depuratori di Trani, Piceglia, Molfetta, Monopoli e Nardò. Gli altri 5 ad aree interessate dallo sbocco a mare di fiumi o canali e tra questi c'è la foce dell'Ofanto. I risultati ottenuti dall'attività di monitoraggio non hanno evidenziato significative criticità ambientali riferiti ai siti in oggetto d'indagine. In generale i valori delle variabili misurate non hanno evidenziato superamenti o scostamenti significativi rispetto ai limiti o alle soglie imposte dalle norme. A margine della conferenza Legambiente ha presentato l'edizione aggiornata di Non si butta un tubo nei tubi, l'identikit dei rifiuti da non buttare nel WC o nel lavandino per non compromettere il sistema di depurazione.